Nel podcast di oggi voglio parlarvi di un qualcosa che destra moltissima curiosità, ma che allo stesso tempo destra moltissima confusione. C'è tantissima confusione su questo argomento, ovvero il concetto di anima gemella e anima karmica. Molto spesso mi capita di fare consulenze e di sentire parlare le persone di un'altra persona riferendosi ad essa come alla propria anima gemella, oppure ancora diversamente di fiamma gemella. Iniziamo intanto a dire che il concetto di fiamma gemella e anima gemella non corrisponde, sono due cose nettamente diverse. Di fiamma gemella parleremo in seguito, perché prima di parlare di fiamma gemella è molto importante comprendere la differenza tra un'anima gemella e un'anima karmica. Chi è un'anima gemella e chi è un'anima karmica? Allora, partiamo dal presupposto che in realtà noi siamo venuti qui, ci siamo incarnati in questo corpo e in tutte le nostre incarnazioni lo facciamo per andare ad apprendere delle lezioni. Fino a quando avremo appreso tutte queste lezioni e non sarà più indispensabile per noi riproporre alla nostra anima un'incarnazione fisica. Questa incarnazione fisica però deve essere per noi maestra, deve essere per noi maestra di lezioni che dobbiamo andare ad apprendere. E quando noi andiamo a incarnarci molto spesso lo facciamo con un gruppo di anime, con un gruppo di anime e compagne, che sono anime che fanno con noi in qualche modo questo percorso. Ed è come un po' come se prima della nostra incarnazione decidessimo con alcune di queste nostre anime e compagne quali sono i ruoli che ciascuna di queste anime deve avere per poter evolvere. In questo percorso evolutivo ovviamente dobbiamo essere messi di fronte degli ostacoli. Sappiamo che l'ostacolo molto spesso, il problema, è la molla che ci porta ad agire. Certo che lo scopo di ciascuno di noi è arrivare qui per comprendere ma allo stesso tempo per essere felici. Diciamo che però la felicità è la meta ultima. La felicità non è nient'altro che il completamento. Il completamento è la consapevolezza e il benessere che nasce da questa totale consapevolezza. La felicità è l'ascesi ma come dicevo noi abbiamo la possibilità di ascendere solamente quando abbiamo compiuto tutto questo percorso. Ciò non vuol dire che durante la nostra vita non possiamo essere felici. Però essere felici non vuol dire essere in estasi. Molto spesso si confonde la felicità con la serenità. In realtà la felicità totale è possibile solo quando ci troviamo in uno stato di estasi in cui non abbiamo più bisogno di sperimentare le pulsioni e l'oscillazione come diceva Schopenhauer tra quella che è l'infelicità e la felicità, tra la tristezza e eventualmente uno stato di non tristezza. Quindi che cosa stiamo qui a fare? Stiamo qui per evolvere. Stiamo qui per evolvere quindi abbiamo bisogno della molla per evolvere. E le anime karmiche sono proprio le anime che ci spingono a far questo. È molto semplice individuare un'anima karmica. Perché? Perché un'anima karmica in realtà è un'anima che ci mette alla prova. Sono relazioni spesso difficili, complicate, verso le quali abbiamo una forte attrazione. non riusciamo a fare a meno di avere quel rapporto con quella persona. Non sto parlando solo di rapporti di coppia, ma anche rapporto genitore figlio, rapporti di amicizia, rapporti lavorativi. Sono tutte quelle anime con le quali sentiamo di avere un legame, ma con le quali non riusciamo ad andare perfettamente d'accordo, con le quali non riusciamo a mantenere una certa stabilità. Quindi sono i figli che amiamo tantissimo ovviamente, ma con i quali abbiamo un rapporto contrastato. la persona che sentiamo essere nostra, parte di noi, ma con la quale non riusciamo a stare insieme. L'amico a cui vogliamo moltissimo bene, ma che spesso ci delude. La persona che stimiamo lavorativamente, magari il nostro capo, il nostro titolare, che però dimostra di non avere altrettanta stima nei nostri confronti. Quindi sono rapporti contrastati, ma dei quali non riusciamo a fare meno. Perché non riusciamo a fare meno? Perché questi rapporti sono importanti per noi, per la nostra evoluzione. E dietro questi rapporti c'è la spiegazione di un qualche cosa che dobbiamo comprendere. Quindi fin quando non riusciremo a comprendere ciò che dobbiamo comprendere, fin quando non avremo imparato la lezione, ci troveremo sempre a ripetere questa relazione con questa persona o con una persona che è un'altra persona che avrà caratteristiche simili a quella precedente. Ecco perché, questa è la risposta del perché mi trovo sempre ad avere a che fare con persone che si comportano con me nello stesso modo, perché tutte le volte che inizio una relazione poi va in questo modo, perché le persone mi deludono sempre. Ecco, qui dietro in realtà non c'è tanto l'altra persona, siamo noi in relazione a quella persona. Quindi è quello che noi dobbiamo imparare da questa tipologia di situazione, da questa tipologia di persona. Quello che noi dobbiamo imparare senza giudizio, perché quella persona non è né buona né cattiva, noi non siamo né buoni né cattivi, semplicemente dobbiamo imparare qualcosa. È come quando non sappiamo ancora scrivere, che sbagliamo e facciamo queste stanghette per imparare a scrivere, a tenere la giusta inclinazione. E le facciamo, le rifacciamo, le rifacciamo. E continuiamo a sbagliare ovviamente, anche se vediamo davanti a noi la lettera scritta nel modo corretto dalla nostra maestra. Però è come se non riuscissimo ad imparare immediatamente. Ma quando, una volta imparata, questa stanghetta diventerà drittissima, perfetta. E allora a quel punto non avremo più bisogno di avere di fronte la lettera giusta, perché avremo imparato la lezione di come scrivere quella stanghetta. E allora a quel punto sarà per noi naturale fare quella stanghetta. Così come una volta che avremo imparato quella lezione non avremo più bisogno di quel tipo di rapporto. E quindi cosa succederà? Succederà che quel rapporto, magari con quella persona, improvvisamente si dileguerà. Non sentiremo più attrazione nei confronti di quella situazione, di quella persona, e non incontreremo più persone come quella persona. Perché? Perché avremo compreso la lezione. Se noi incontriamo spesso persone che ci sminuiscono, che sembrano non apprezzarci abbastanza, oppure persone che ci tradiscono, oppure persone che, come dicevo, ci umiliano, che se ne approfittano di noi, o perlomeno persone che noi percepiamo che stanno facendo questo, perché poi c'è anche l'altro lato della medaglia. Anche l'altra persona sta facendo il suo percorso karmico. E quindi magari noi a volte interpretiamo quella situazione in un modo, ma l'altra persona non sta interpretando la situazione in quel modo. Non vuol dire che quella persona sia buonissima e noi cattivi o viceversa. Semplicemente ciascuno di noi fa un percorso. Facciamo spesso percorsi paralleli che si incontrano in alcuni punti e poi si allontanano. Ma ovviamente noi mutiamo l'ambiente, come dire, l'energia circostante e viceversa. Quindi diciamo che la nostra influenza sull'altra persona è evidente, però allo stesso tempo continuiamo a fare una determinata strada. Qui si innesca poi il nostro libero arbitrio. Siamo noi che con il nostro ripetere le situazioni comprendiamo se quella situazione vogliamo che si ripeta all'infinito. Quando siamo esasperati, quando arriviamo all'apice del malessere nello stare in una situazione che riteniamo sbagliata per noi, allora cosa facciamo? O soccombiamo, oppure ci diamo una mossa e quindi cerchiamo di comprendere perché sta accadendo questo. Molto spesso ci imbattiamo in percorsi che possono essere emozionali, spirituali, che ci fanno comprendere qual è la vera natura dello nostro stare male, qual è la vera natura del malessere emotivo, della malattia. Quando ci troviamo a stare molto male emotivamente, soffriamo di ansia, di stress, attacchi di panico, oppure poi abbiamo una malattia fisica, siamo arrivati in una fase in cui quella lezione si è ripresentata tante volte, non abbiamo dato ascolto, non avevamo gli strumenti per dare ascolto e quindi la malattia, così come la sofferenza emotiva, anche l'essere sofferente emotivamente, urlano talmente forte che dobbiamo dare ascolto e quindi troviamo la strada. Certo, sarebbe meglio non arrivare a questo punto, ma siamo esseri incarnati, siamo anime, siamo anime eterne, incarnate in un corpo fisico per fare esperienza proprio di questo. Quindi, le relazioni sono, la maggior parte delle relazioni che noi incontriamo nella vita per crescere sono relazioni karmiche. Quando senti che quella persona è la persona giusta per te, ma non ci riesci a stare insieme, è perché è una relazione karmica. E molto spesso questa relazione karmica nasce da un qualche cosa che abbiamo già vissuto nel passato, quindi abbiamo già vissuto, abbiamo un vissuto con quella persona, ecco, ma con la maggior parte delle persone, delle anime che incontriamo in questa nostra incarnazione. Ecco perché a volte ci sembra di avere già conosciuto quella persona, che quella persona la conosciamo da sempre, che fa parte di noi, perché molto probabilmente abbiamo già vissuto delle esperienze, la nostra anima non si dimentica, la nostra anima cela per un po' di tempo perché altrimenti non potremmo fare questo percorso se noi ricordassimo tutto. Man mano che andiamo avanti nella nostra evoluzione spirituale, avremo degli strumenti per comprendere questo, per esempio, attraverso la lettura delle vite passate, attraverso l'apertura dei nostri registri akashici, riusciamo ad accedere alle nostre, al nostro passato, che in realtà non è passato, è sincronico il tempo, quindi per la nostra anima è tutto presente, e riusciamo a comprendere magari le ragioni del perché siamo legati a quella persona. Quindi succede che queste relazioni karmiche molto spesso poi non decollano, ma perché non devono decollare, devono solo insegnarci delle cose. Questa è un'anima karmica. L'anima gemella invece è un'anima con la quale noi non abbiamo nessun tipo di contrasto, quindi quando c'è un amore che non riesce a decollare, non si tratta di un'anima gemella, si tratta di un'anima karmica. L'anima gemella è un'anima compagna in tutti i sensi, è una persona con la quale noi siamo in sintonia, con la quale difficilmente abbiamo problemi, con la quale se abbiamo qualche piccolo problema quotidiano si appiana facilmente, è tutto molto semplice con un'anima gemella. Le anime gemelle le incontriamo quando? Le incontriamo quando abbiamo bisogno di un po' di pausa tra una lezione karmica e l'altra e le incontriamo anche quando in realtà noi per esempio abbiamo risolto quella questione, magari abbiamo risolto il problema delle relazioni con l'altro, abbiamo risolto il problema delle relazioni di coppia in vite precedenti oppure l'abbiamo risolto in questa nostra vita e quindi a quel punto troviamo una persona con cui stare tranquillamente, troviamo degli amici con cui ci troviamo bene che non ci deludono come dicevamo prima, persone con cui è molto più semplice, tutto molto più facile. Perché? Perché quell'argomento, quella tematica, quella problematica è stata affrontata e quindi magari una persona che deve lavorare sul suo problema per esempio con il denaro, faccio questo esempio con questo blocco che può avere sul denaro, sul primo chakra, non avrà invece da comprendere il senso di amore incondizionato per esempio e quindi non ha bisogno per esempio di lottare o di amore verso sé è un po' difficile che questo accada perché sono due cose ho fatto un esempio che però forse non è azzeccatissimo allora diciamo una persona che ha bisogno di comprendere magari delle lezioni legate a l'altruismo verso gli altri che non sono le persone proprio sue della propria famiglia ecco allora dovrà magari non avrà problemi nella relazione di coppia ma li avrà nelle relazioni verso l'esterno ecco questo esempio è ancora più calzante quindi cosa vuol dire? Vuol dire che magari avrà una relazione di coppia serenissima ma avrà ancora dei problemi ad avere relazioni con le amicizie quindi con le persone esterne alla sua famiglia e quindi avrà nell'ambito della relazione di coppia un'anima gemella che non crea problemi perché entrambe queste due persone lui e la persona conquisterà avranno risolto quelle problematiche quindi saranno anime gemelle che andranno tranquillamente avanti e diciamo che quell'ambito della vita non creerà problemi stessa cosa accade per esempio nella malattia ci sono persone che scoppiano di salute altre che invece sono sempre malate queste persone che hanno salute molto spesso non comprendono la problematica delle persone che invece soffrono della malattia perché perché loro sono qua per imparare altre cose e quindi visto che la malattia non è una questione che devono risolvere in questa vita o l'hanno già risolta o la affronteranno in un'altra per loro non è un problema godono di ottima salute le persone che mangiano tantissimo e sono sempre magre non è solamente una questione metabolica perché in realtà poi la scienza in realtà di tutto questo non comprende appieno perché perché in realtà le ragioni sono molto ragioni della malattia del benessere sono le ragioni spirituali una persona per esempio che ha problemi con il cibo che ha problemi con il proprio corpo è perché deve comprendere tante cose da questo dovrà probabilmente comprendere volersi più bene dovrà comprendere che vale al di là del suo aspetto e che deve comprendere che deve riconoscere prima lei stessa il proprio valore piuttosto che gli altri dall'esterno una volta risolto questo magicamente smetterà di avere un determinato tipo di problemi quindi le persone sono le persone le situazioni possono essere karmiche e diciamo che possono anche presentare karmiche le situazioni possono avere sia un karma positivo che negativo quindi qualcosa che abbiamo già preso che non ci serve in quel momento diventa semplice positivo allo stesso tempo le relazioni quindi se ti stai chiedendo se quella persona che hai incontrato è la tua anima gemella o no prima cerca di capire che tipo di rapporto hai con lei se è un rapporto contrastato se non riuscite ad andare d'accordo a stare insieme potrebbe essere un'anima karmica se invece hai un rapporto molto semplice che rimane così tranquillo idiliaco nel corso del tempo allora molto probabilmente quella è un'anima gemella come dicevo il concetto di fiamma gemella è ancora diverso il concetto di fiamma gemella va assolutamente oltre quello che è l'individualità le fiamme gemelle sono due anime che fanno in realtà parte della stessa anima sono un'unica anima che si è scissa e che cercano di riunirsi nelle sue due parti e quindi nel cercare di riunirsi fa un percorso per però non semplicemente per stare bene insieme no le fiamme gemelle sono intanto anime molto molto evolute che hanno un percorso spirituale molto importante alle spalle e che sono in cammino le riconosci perché già in questa vita sono in cammino se la tua spiritualità è ancora agli albori in questa vita probabilmente se senti un rapporto particolare quella è un'anima karmica e non è una fiamma gemella il rapporto con la fiamma gemella non è contrastato ma è difficile nel senso che per qualche motivo queste persone non riescono a stare insieme o perché vivono dall'altra faccia cioè una in una parte del mondo l'altra dall'altra perché hanno grandi differenze magari di età hanno grandi differenze culturali quelle sono possono essere fiamme gemelle ma le fiamme gemelle non è che vogliono stare cioè non riescono a stare insieme per motivi caratteriali non riescono a stare insieme per limitazioni più che altro oggettive ok limitazioni oggettive ma lo scopo delle fiamme gemelle non è stare bene essere felici loro due insieme lo scopo delle fiamme gemelle è creare qualcosa per aiutare l'umanità ad evolversi le fiamme gemelle sono spesso fiamme sono anime che hanno un grande progetto comune che aiuterà gli altri sono anime rivolte verso l'esterno verso l'altruismo verso cause umanitarie hanno un progetto comune per aiutare la terra aiutare il mondo aiutare le persone in difficoltà queste sono fiamme gemelle sono fiamme gemelle che hanno un grande progetto da realizzare insieme che fanno fatica a stare insieme perché comunque sono molto simili e allo stesso tempo parte della stessa cosa e nella loro incarnazione comunque fisica cercano di mantenere lo stesso la propria dualità perché ciascuno ha la propria individualità però non è un rapporto contrastato come quello delle anime karmiche queste fiamme gemelle tendenzialmente però si incontrano le fiamme gemelle nelle ultime fasi delle proprie incarnazioni alcuni dicono che si incontrino proprio nell'ultima incarnazione e quindi come dire non possiamo pensare di incontrare la nostra fiamma gemella in questa nostra vita se il nostro come dire se non abbiamo risolto la gran parte di quello che è il diciamo il nostro percorso però possiamo in eterico e quindi per esempio prendere i nostri registri cascici o facendo channeling entrare in connessione con la nostra fiamma gemella questo sì per anche se non la vedremo ancora in questa nostra vita questa è una cosa molto molto importante che possiamo fare perché perché ciascuno di noi ha una fiamma gemella anche se non la incontrerà in questa vita e relazionarsi con la fiamma gemella ci aiuta a comprendere molto più di noi stessi perché è un'altra parte diciamo è un'altra parte di noi che dobbiamo imparare a conoscere e integrare per poter poi riconoscere quando sarà il momento questo è un po' un quadro ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire da approfondire sicuramente per lavorare sulle relazioni karmiche sulla relazione con la nostra fiamma gemella ma anche sulla relazione con la nostra anima gemella perché questo ci aiuta a comprendere aspetti positivi che abbiamo integrato e conoscere quello che per noi che noi abbiamo che la nostra anima ha imparato è molto importante ci dà anche un senso di sicurezza per far questo possiamo come dicevo accedere ai nostri registri e sviluppare attraverso un percorso è molto importante che però questo sia un percorso una comprensione di quello che la nostra anima ci dice in merito a queste relazioni ovviamente poi se vuoi saperne di più relativamente alla lettura dei registri da fare autonomamente puoi scrivermi e contattarmi ai miei recapiti che trovi in fondo questo video questo podcast spero di esserti stato d'aiuto e spero di averti incuriosito con questo discorso su anime gemelle anime karmiche fiamme gemelle che veramente è davvero importante per la nostra comprensione e che merita molto impegno e molto approfondimento tanta luce grazie